Onorevole Galati, questa è la sua seconda volta vicino a Guccione dopo la presentazione della sua candidatura. Ala dimostra fortemente di essere accanto a una scelta come quella dell'alleanza civica qui a Cosenzi. Abbiamo fatto una scelta meditata insieme con gli amici Morone e Mancini che sostengono il programma e il progetto di Guccione. L'abbiamo fatto con convinzione in un percorso ormai che è iniziato da tempo a livello nazionale, che prima si è attuato attraverso il voto sulle riforme costituzionali, sta continuando con alcune riforme in particolare. Questo è un esperimento politico da cui vogliamo capire come insieme poter continuare questo percorso, ovviamente sempre con un processo riformatore che deve distinguere la nostra azione politica. La presenza di Medina è stata testimoniata che è un progetto che come Ala abbiamo fatto a livello nazionale. vogliamo verificare se sui territori e anche da Cosenza può essere un buon cemento per un progetto politico che speriamo sia sempre più condiviso in futuro. Fiorenza Gonzales per la Cinews24